Guarda Simus, non è più grosso il cascato. Non è pilotato. Sarà pilotato lì. Rivede che mi va, mi fa già vedere l'impatto. Sì, ad impatto lo slaggo. Fermati. Sì, fermati. Non l'avanzamento. Noi, se ripete come. Sì, è un po' un trabicoletto. Sì, sì,ườnda, non. Noi perché sono salata, tutti. Che è una figa di mezza. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 come l'arbitro del Cable, che sconvolgente che è stata ma come l'arbitro del Bicci in castanza, ieri in mezzo ha fatto loro ieri avevo sempre in mezzo e l'arbitro, se fuori dal campo lettivo e l'arbitro era in mezzo gioco, entrì a Tugu e in Pia fò quel cavo, e ha visto tutta l'altra partita e ha punito i nostri, e ha punito i nostri, ma chi ha fatto il fallo, ti ha munito anche Eh si? No. E' già dei coglioni che aveva dei tragici qui. Eh certo, per favore. E' era la firla. Eh si, noi avevamo la bicicletta. Sì, noi avevamo la bicicletta. E ti ritrovi in camera. A me e a me. Chi va di è quel posto. Non mi ricordo che erano vinto la pola dritta sui potoni di un po' e a me. La tussi. Non so se era la cassa. Si era. Era una iena che era. E' la mia madre parla. E' la mia madre parla. E' la mia madre. E' la mia madre. E' la mia madre. Ma cosa hai visto? Ma lui è la mia briga di fuono al campo. E' la tussi. Ma cosa tu viste? Si. E' la biancina, la piccola, la fa' di più maianica. Ma tutti i maianici. Manca qui, il cattellale. Mi parlai in giro un po' delle squadre. L'ha fatto un po' di male a tutte le squadre. L'arbitro è la sua maniera. E' guai come l'ho io. E' come sei? Porti in linea. No guarda che ora.. No ho visto i miei, fri miei. E allora è inutile di fare tutto il giro. Si si. Si. Non ci sono inutili a livelli, giovani, è un sport che non attira, non è scala, non è scala, è solo che sacrificio è tanto anche è tanto, è uno come Paolo Paolo Bortoletto? no cazzo Paolo non mi viene in mente, non mi viene in mente Giuliano mi viene in mente Steuolo un po' di segno mio euro, credi la presenza, minuti, si ho fatto un concursillo lui ti ha detto che io ne ho regghi a me, a settimana si, non ti ha detto che tu hai regghi si, il regime, tu hai più o me si, però ti studiare fino a che tu hai il fisico pochi anni, ma non riesco a me, guarda, ti senti però i concursatori che roba in realtà hanno una canca in all'aggia promossa ma non riesco a fare 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 vai, che superità buono è una scarpa questo è che il ballone strano se non il ballone si ha desviato Marco Cori si trova in giro per ora ma 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 no 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 si dai dai Non è problema. Va a baixo, Gianno. Noi sono i gols. Buono sostegno che ho. Si, ma non sono i plagi, ma non è calcio. No, non è solo i piedi di calar. Se ti salva a guardarlo e li gira per ca'. Sì, vabbè, vabbè. No, poi passa la subito, Gianno. Ma si, vabbè! Ma come si, vabbè! E's il veneno de qua. Dario sta sinistra! Dario. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.